Riparte la politica, proposte, progetti e polemiche. Assegnate gli impianti sportivi, finisce una spinosa vicenda. Grandi numeri per il turismo, cresce la domanda per visitare Orte. Trasmissioni per celebrare questo importante anniversario. Ne parleremo a tempo debito. Occupiamoci ora di politica locale. C'è fermento nei partiti e nei movimenti. Quanto sta accadendo ce lo racconta Gianni Di Felice. Una settimana frizzante che risveglia il torpore assunto durante le feste natalizie. Le forze politiche cortane, impegnate a trovare accordi e nomi da presentare ai cittadini, hanno promosso comunicati e anche qualche scambio di battute. Queste le faceva Costruiamo il domani al PD, rimproverandolo di occuparsi dell'Alberini solo per l'avvicinarsi della campagna elettorale, sottolineandone l'assenza in varie manifestazioni e iniziative intraprese a favore della sala. La risposta del Partito Democratico evidenzia come il problema fu invece sollevato già nel 2013. Se fossimo stati ascoltati non saremmo arrivati a questa situazione, si legge nella nota. E da proposito di comunicati, Noe Consalvini si occupa con preoccupazione delle spese del Comune, denunciando una serie di uscite che definisce pazze, mentre il futuro presente fa l'identikit del prossimo sindaco. Tornando ai salviniani, la nota inizia con l'avviso che gli obiettivi sociali da porre in essere non devono avere compromessi, sottintesi e intermediazioni. Oltre alle misure sulla sicurezza dei cittadini, Noe Consalvini propone l'istituzione dell'albo dei fornitori per mettere in chiaro, dicono senza accomodanti soluzioni alternative, i rapporti tra l'ente comunale e tutte le imprese ortane. Oltre a questa proposta, la nota osserva come si sia impennata la produzione degli impegni di spesa. Notiamo, dice ancora Noe Consalvini, come a fronte di una relazione tecnico-amministrativa viene redatto un bisogno preventivo di soldi pubblici della comunità ortana per l'anno successivo, entro il quale vanno necessariamente spesi totalmente per avere, oltre che ragione su ciò che si era scritto nella relazione, diritto alla stessa cifra da spendere anche l'anno successivo. Oltre al pagamento dei molteplici mutui, ad 11 anni di consulenze esterne con rincarica da archidetti, ingegneri, avvocati, geologi che hanno ridotto i conti comunali in un gigantesco colabrodo. Noe Consalvini dice che occorre azzerare le consulenze esterne, eliminare i fondi per gli aiuti agli stranieri e bloccare i consueti assestamenti di bilancio che vanno e vengono per sanare esigenze al di fuori dell'interesse generale collettivo. Infine c'è il ringraziamento a Marina Pea di futuro presente. Per averci riconosciuto si legge l'unica forza di centrodestra d'orte. La dichiarazione di Pea è all'interno di un'intervista rilasciata al portale Viterbo News 24. Lì Pea traccia l'identikit del prossimo sindaco che dovrà, dice, incarnare il cambiamento. Sull'alleanza formatasi poche settimane fa, Pea sottolinea che era necessario ampliare il progetto di area nuova anche ad altri soggetti fortemente rappresentativi della società civile e del territorio. I temi a noi particolarmente cari, continua Pea, sono la qualità della vita e della città, intese a 360 gradi. La coordinatrice di futuro presente chiarisce poi i rapporti con il PD, unico partito strutturato dentro la coalizione. Noi abbiamo un'alleanza e la portiamo avanti, nonostante qualche divergenza ideologica, perché riteniamo che nel direttivo ci siano ottimi esponenti con i quali è possibile lavorare per il bene della città. Le logiche di appartenenza, conclude Pea, sono superate. L'associazione Facciamo per Cambiare richiama i valori della legalità, della coerenza e della trasparenza, quali fondamenti per qualsiasi compagine che aspiri a guidare il Comune di Orte. L'associazione si dice sorpresa che neanche in questo momento si parli di questi valori come condizione imprescindibile di qualsiasi incontro pre-elettorale. Notiamo, dicono, che anche le formazioni che in un passato recente avevano fatto cenno a molti temi come prassi amministrative sbagliate, oggi tacciono sulle problematiche chiare e diffuse che per effetto della gestione ordinaria dovuta al commissariamento del Comune di Orte continuano a ripresentarsi. La sensazione è che chi sembra proporsi oggi come alternativa all'ultima amministrazione taccia scientemente su questi argomenti, forse per paura di rovinare potenziali alleanze elettorali con coloro i quali hanno contribuito in prima persona a prendere quelle decisioni o con chi non si è opposto efficacemente alle stesse. Questa diversa cultura della coerenza, della responsabilità, del modo di intendere la politica, conclude Facciamo per Cambiare, ci fa temere che potremmo purtroppo non assistere ad una sostanziale inversione di tendenza sul modo di governare la città, nonostante un più o meno reale possibile avvicendamento dei soggetti a Palazzo Nuzzi. E per quanto riguarda la vita politica di Orte, comunichiamo che sabato prossimo, dopo il TG Magazine, riprenderà la trasmissione incontri curata come sempre da Gianni Di Felice. Dopo un anno e mezzo, il Comune di Orte mette fine alla spinosa vicenda degli impianti sportivi. Una determina aggiudica la gestione. I particolari da Marco Nicoletti. Arriva alla fine la vicenda della gestione degli impianti sportivi. Una determina del Comune di Orte assegna gli impianti. Il documento prende atto delle risultanze del pubblico incanto svoltosi in più sedute, dal 4 agosto 2014 al 26 giugno 2015 ed approva la giudicazione provvisoria alla costituenda Associazione Temporanea di Associazioni Sportive e Dilettantistiche formata da ASD Orte, ASD Orte Calcio 5, ASD Fornolese, comandatari all'ASD Orte. Quest'ultima ha offerto la disponibilità a gestire gli impianti sportivi per il quadriennio con l'effettuazione a proprio carico di una serie di interventi di investimento per un valore complessivo di 104.000 euro. Il primo anno sono previsti i lavori allo Stadio Filesi con la ristrutturazione e messa in funzione dei locali sotto le gradinate e della casetta prefabbricata. La realizzazione di un tunnel di collegamento dagli spogliatoi dello stadio al palazzetto dello sport e l'allestimento di un'infermeria. Interventi anche al polivalente con il rifacimento del manto d'erba sintetica e della recinzione. Entro il secondo anno, il rifacimento della pista di atletica e dell'impianto di illuminazione dello Stadio Filesi. Il terzo anno è prevista la realizzazione dell'impianto di irrigazione del campo sportivo Ciucci e la sistemazione dei suoi spogliatoi. Spogliatoi che saranno ristrutturati anche al campo di calcio a 5 di Petignano. L'ultimo anno di affidamento vede la ristrutturazione della parte centrale delle gradinate dello Stadio Filesi e la realizzazione dell'aria stampa al palazzetto dello sport. Tutti questi lavori chiedendo al Comune un corrispettivo di 239.600 euro ripartito nei 4 anni di affidamento. Ed ora l'appuntamento con l'ospite di oggi, Giancarlo Pastura, che è qui con me. Ben trovato. Buongiorno, Natana. Buongiorno. Ben trovato. Ecco, la scorsa settimana abbiamo detto nel notiziario che sono stati più di 10.000 i visitatori che l'ufficio turistico nel 2015 ha accolto. Un commento su questo grande risultato? Il commento è un po' quello che avete fatto voi, nel senso riprendendo anche le notizie degli organi di stampa, che il risultato è sicuramente positivo considerando anche i numeri degli anni passati, che dimostrano un incremento abbastanza significativo degli accessi ai siti archeologici. I numeri comunque sono legati prevalentemente a orte sotterranea, soprattutto a orte sotterranea, ma anche perché comunque è una scelta strategico-politica dell'ufficio turistico di concentrare lì le visite, dato che comunque si tratta del fiore all'occhiello dell'offerta turistica ortana. Per quanto riguarda i numeri, sicuramente si può fare molto di più, a nostro avviso, nel senso che, come sapete, il servizio è strutturato in una certa maniera, che comunque va a coprire 24 ore settimanali, a meno che non capiti la settimana con festività o punti festivi particolari, e quindi immaginate che questo dato è anche parziale. È parziale, anche perché ci sono grandi differenze, andando ad analizzare le mensilità nello specifico, tra i mesi estivi e i mesi invernali, ma questo è anche abbastanza normale. Però per dire, ci sono delle situazioni sulle quali bisogna lavorare. Faccio un esempio, nel mese di aprile ha registrato circa 1900 visitatori, mentre nel mese di gennaio 2015 ne aveva registrati in tutto il mese 125, quindi c'è un grande squilibrio. Però nel gennaio 2016, per arrivare ai dati di oggi, precisi registrati con il registratore preso con il finanziamento del Consorzio Via Merina, i 125 visitatori erano già stati quasi superati il giorno dell'Epifania, quindi il trend è questo qui. È sicuramente molto positivo. La domanda cresce, però l'offerta rimane la stessa. È previsto un potenziamento? Sì, è previsto un potenziamento sia della rete di orte sotterranea che di fili archeologici esterni, sicuramente stiamo lavorando anche su Seripola. Il discorso dell'offerta turistica è dato dalle nostre forze. Noi sappiamo benissimo che gestire tanto si rischia di farlo male, quindi anche per l'indice di gradimento che ci è dato dai turisti, a oggi le nostre forze sono concentrate principalmente su orte sotterranee. Ci sono il discorso dei musei, per dire sul museo civico, con il museo civico, quindi con la direzione del museo civico, stiamo lavorando per un potenziamento, per uno stravolgimento di quella che è sia la sede espositiva sia il materiale esposto, riportando da Civita Castellana i vecchi materiali che vengono dagli scavi di Seripola, tra l'altro materiale molto importante dal punto di vista scientifico e archeologico. Stiamo valutando delle situazioni territoriali, nel senso che ci sono molte aree archeologiche o naturalistiche che sono sconosciute più e sui quali stiamo cercando di ragionare su un discorso di delle uscite programmate, calendarizzate per fare una sensibilizzazione sul patrimonio. Ecco, poco fa hai accennato a Seripola, ci sono delle novità su questo sito? Quello che Seripola, come avevo già detto, è diciamo un po' la nota dolente, sappiamo tutti le vicende dell'alluvione e quant'altro. Sì, ci ricordiamo, certo. Sappiamo che già c'era stato un primo intervento coordinato dalla soprintendenza, dal museo civico e da Veramente Orte, insieme anche all'aiuto di altre associazioni, prezioso aiuto, e era stato fatto, diciamo, un'opera di messa in sicurezza, soprattutto dell'area dei mosaici delle terme. Diciamo che questo purtroppo non ha avuto più seguito per volontà non dipendenti da noi e oggi, diciamo, è cambiata anche l'ispettrice di zona della soprintendenza. Sappiamo bene che quando si alternano queste ispettrici, ecco, ci possono essere voi magari delle difficoltà. No, in questo caso la nuova ispettrice ha manifestato un grande interesse, grande disponibilità, grande sensibilità e ha già firmato tutte le carte per intervenire sull'area del porto. Questo ci fa piacere. Quindi se tutto va bene vi comunicherò io la data per non fare la figura di quello che non mantiene le parole a nome di tutti, poi stiamo cercando di fissare una data che potrebbe anche comunque essere all'interno già del mese di gennaio. Bene, ci fa piacere. Parliamo ora del Ninfeo. Noi abbiamo dato notizia della sentenza sul Ninfeo. Cosa puoi dirci al riguardo? Posso dire poco in realtà, posso dire che il Ninfeo è sicuramente il fiore all'occhiello dell'offerta, potrebbe essere il fiore all'occhiello dell'offerta turistica di orte sotterranee, però di certo non posso giudicare, non posso commentare una sentenza che non ci vede attori principali oppure coinvolte in causa. Secondo le testimonianze dei turisti voi avete il polso della situazione, però ti chiedo c'è qualcosa che si può migliorare per ottimizzare l'accoglienza nel centro storico? Direi proprio di sì, mi sembra abbastanza evidente. I turisti quando parlano di accoglienza turistica parlano di quello che trovano nel momento in cui varcano la soglia dell'ufficio turistico, dove tra l'altro siamo anche consapevoli che qualcosa dobbiamo potenziare e migliorare. Il centro storico è apprezzato da loro, riprendo un po' quello che dicono i turisti, ma chiunque lo può fare anche basta che si vede un attimo le recensioni di TripAdvisor. I turisti comunque, nonostante noi ortani spesso siamo critici nei confronti di orte, rimangono affascinati dalla bellezza in sé del centro storico. Assolutamente. Poi che notino la pavimentazione non lo scoprono di certo loro, ma poi c'è il discorso per dire una delle cose che veniva più criticate, che oggi in qualche maniera è andata scemando, era quella della piazza caotica per le macchine. quella era una delle cose che veniva più criticate, ma poi anche il discorso dell'offerta correlata. Ci sono tanti discorsi che piano piano però si possono risolvere, nel senso che comunque la cosa positiva che ho notato è che si è risvegliata da più parti una sensibilità per questo aspetto, questo ci fa piacere, soprattutto mi fa piacere in prima persona, quindi speriamo di riuscire a formare un pacchetto vincente, anche perché le cose da dire sul centro storico da quelle piccole a quelle grandi sarebbero veramente tante, però alcune è solo una questione di attenzione che quindi spero con questa sensibilità che si sta creando di poter risolvere. Noi vi auguriamo sicuramente un buon lavoro e ci vediamo la prossima volta con gli aggiornamenti proprio su tutte queste questioni. Va benissimo. Trasferiamoci ora in Umbria, precisamente ad Orvieto, dove la Lega Nord ha visitato la discarica. Il servizio è della redazione di Avinews. Senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega Nord Umbria. Oggi a Orvieto per questa prima tappa di questo tour per le discariche dell'Umbria, per analizzare appunto la situazione dei rifiuti e magari formulare anche le politiche future su questo tema. Assolutamente sì, il problema dei rifiuti in Umbria è assolutamente centrale. Quello che è uscito in merito alle gestioni è cosa grave, ma ancora più grave è il fatto che la visione sia così a corto raggio. Purtroppo la discarica delle crete sta dando pessimo esempio di presenza sul territorio ormai da tempo. Non è una questione di mala gestione, è una questione proprio di una discarica che lì non ci deve essere. E a questo punto vogliamo capire tutto l'intero piano regionale di gestione dei rifiuti, che cosa prevede e quali sono i siti e come sono composti i siti. Li stiamo girando, siamo alle crete, volgo giglione, gireremo per il resto del territorio con un obiettivo appunto, quello di verificare sul campo la consistenza reale degli impianti. Si è svolta sabato la prima giornata della mostra Storia e cronaca della Resistenza Italiana ed Europea, curata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La mostra, allestita nei locali dell'Istituto Fabio Besta di Orte, replicherà il 30 gennaio. Documenti e foto e altro è il materiale esposto per ricordare tutte quelle attività politiche e militari dei movimenti che durante la Seconda Guerra Mondiale si opposero agli oppressori. è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale l'ordine del giorno sulla ferrovia Civida Vecchia Capranica Orte, che impegna la Giunta a reperire i fondi per la riapertura del tratto ferroviario. Il documento arriva dopo un forte impegno del Comitato che si adopera da anni per la riapertura. Ed ora colleghiamoci con la redazione del trebimeteo.com e scopriamo le previsioni meteorologiche di questo fine settimana. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di domenica un'ondata di freddo interesserà l'Europa orientale e meridionale con nevicate fino a quote molto basse. Le temperature massime infatti saranno diffusamente inferiori agli zero gradi su tutto il comparto orientale del continente, valori decisamente più mite invece sulla penisola iberica. Per quanto riguarda l'Italia il maltempo si concentrerà soprattutto sul vessante adriatico dalla Romagna fino alla Puglia con precipitazioni sparse, nevose a tratti anche in pianura sul medio adriatico, variabilità invece sulle isole maggiori con qualche rovescio, nevoso anche in collina sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in sensibile diminuzione sia nei valori minimi che nei massimi, in particolar modo sul vessante adriatico e dal sud. Ma andiamo a vedere che tempo ci aspetta sul nord Italia con una bella giornata di sole su coste e pianure, mentre della variabilità interesserà i settori alpini centro-occidentali con qualche nevicata fino a quote molto basse. Il tempo intanto peggiora sulle marche con fiocchi di neve anche lungo la costa. Il maltempo infatti si concentrerà sul medio adriatico con la neve che si spingerà fino a quote molto basse accompagnata da venti intensi di bora, mentre sul vessante tirrenico prevarranno le schiarite per tutto l'arco della giornata. Infine al sud, maltempo un po' su tutte le nostre regioni, soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria orientale e gran parte della Sicilia, con fenomeni nevosi attratti anche a quote collinari, ma la neve poi tra sera e notte si spingerà anche sulle pianure della medio alta Puglia. Uno sguardo anche sulla Sardegna, dove la variabilità imperverserà soprattutto al nord, ma con tendenza al miglioramento. Vi aspetto per aggiornamenti in tempo reale anche scaricando l'applicazione Trebi Meteo su smartphone e tablet. Si è conclusa da poco in Piazza della Libertà la benedizione degli animali in occasione della festività di Sant'Antonio Abate. Vino e dolci sono stati offerti dalla Proloco ai presenti. Ed è tutto per questo numero del TG Magazine. Vi ricordo che potete rivederlo ai consueti orari su TRO e TRO2 e seguirci nei siti internet. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti!